no ma perché amy è vero che lei non si muove così tanto ho capito ma c'è una differenza minima pure lei sta sempre che non fa niente invece va qui corre e mangia all'improvviso ora cosa vuoi che gli piace a lui amy? quasi così la regalamo che dici? no! non solo sai la mente dona